Era attesa da un momento all'altro e è arrivata questa mattina Vincenzo De Luca, decaduto da sindaco di Salerno. I giudici di secondo grado hanno confermato l'ordinanza del Tribunale che ne aveva dichiarato in primo grado la decadenza. De Luca era stato condannato per l'incompatibilità tra le cariche di sindaco e viceministro accumulate durante il suo impegno nel governo guidato dal Premier Enrico Letta. Ora la sentenza della Corte d'Appello ne sancisce la decadenza. Per effetto di questa sentenza, impugnabile in Cassazione, Enzo Napoli assume l'incarico di sindaco in vista del ritorno al voto per il mese di maggio. De Luca ha già diramato una nota nella quale dice di esprimere la sua soddisfazione per la sentenza della Corte d'Appello che, stabilendo la decadenza, consente la continuità dell'attività amministrativa, evitando la nomina del commissario e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Questo, ha dichiarato De Luca, mi lascia pienamente libero di sviluppare la mia iniziativa in vista delle primarie per la Regione Campania. Sul piano del diritto procederemo, continua De Luca, all'immediato ricorso in Cassazione contro una sentenza che, essendo fra l'altro cessata da un anno la materia del contendere, propone un giudizio di merito in tema di incompatibilità che ci vede in totale dissenso. Al di là di valutazioni più sostanziali, non si comprende la decadenza della carica elettiva e precedente rispetto ad un incarico non elettivo e successivo. Attenderemo, ha concluso De Luca, con serenità la pronuncia della Cassazione.